ciao a tutti oggi facciamo un esperimento sul cuoio normalmente io lavoro sul legno ma questa volta ho trovato un pezzo di cuoio e voglio provare a lavorare con il pirografo il metodo che utilizzo sempre lo stesso cioè utilizzo la carta carbone e un disegno stampato lo ripasso con la matita e come per il legno il mio tratto resterà sul cuoio vediamo che qui sto facendo il tratto di un cavallo la testa di un cavallo anch'io non sapevo se la carta carbone funziona anche sul cuoio ma come vedremo tra poco l'effetto esattamente lo stesso che su qualsiasi altra superficie grazie a tutti grazie a tutti ecco vediamo che a questo punto è terminato il disegno ed è stato perfettamente ricalcato sul cuoio a questo punto si può cominciare a lavorare con il pirografo come per il legno utilizzo la punta piatta mi serve sia per fare i contorni sia per riempire il cuoio è molto tenero molto dolce rispetto al legno quindi devo mantenere una temperatura un meno più leggera e immediatamente si vede la bruciatura appena si appoggia sulla superficie del cuoio è un esperimento anche per me però diciamo che mi ha dato abbastanza soddisfazione anche in questo caso è molto più veloce rispetto al legno perché appunto brucia subito ho scelto una silhouette una figura dove non ci sono sfumature ma è tutto nero su bianco quindi riempimento sempre alla stessa temperatura per provare la prima volta che lavoro sul cuoio quindi non ho voluto azzardarmi a fare tentativi con le sfumature in questo caso la temperatura è sempre costante vado solo a riempire i tratti scuri non ho voluto a riempire i tratti scuri non ho voluto a risponare i tratti scuri Grazie a tutti. 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 Ecco qui il lavoro è terminato, mi sembra che sia gradevole e soddisfacente. Questo era solo un ritaglio di cuoio, quindi non ha una funzione particolare, ma è appunto una prova per vedere come si comporta il pirografo sul cuoio. Mi sembra che sia soddisfacente. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti se vi interessa visitate il nostro sito elettronica didattica.com e continuate a seguirci su questo canale elettronica didattica. Ciao a tutti, a presto.